Musica E bella a tutti ragazzi, qui è Bazzu che vi parla E siamo di nuovo sulla Vanilla Pensavo di rimanere molto più vivo Comunque, stavo dicendo La missione è Finire la nostra casa La nostra fantastica casa Sapendo che qua dovremmo fare una mega torre Che volevo fare in Cobbestone Non so se stonava un po', al massimo la distruggo Ma pensavo di farla in Cobbestone Secondo me era sembrato di vedere un Creeper per un secondo lì Altare hanno soltanto le folle Mi serve carne Se no muoio Non dovrei morire Wow, calcoli assurdi di Mazzucchi Devo fare una farm di pecore E anche di grano In modo che posso Pane infinito Ok, calcoli assurdi di Mazzucchi scusate se non sto parlando tanto ma è perché sto ragionando come fare questa torre forse questo gameplay sarà un po' tanto noioso perché così mi sembra già abbastanza larga però ho finito la cobblestone e se facessi tipo ma si ci può anche stare ma dobbiamo farlo anche qua questa è la corsia centrale se non sbaglio non vorrei sbagliare per fare una cosa simmetrica no ma quella è la corsia centrale scendete giù dalla mia casa per adesso lo faccio con questo ecco 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 Voglio specificarlo per ora Infatti adesso voglio trovare Prima cosa Mi faccio una farm di grano E poi devo fare anche un recinto Per appunto le pecore Allora Facciamo così No, non usiamo sto legno che ce n'ho poco Usa questo Se al posto del legno usiamo forse Questa che è più semplice da trovare La cobblestone Meglio devo avere l'acqua Senza un secchio d'acqua non posso coltivare Ok, aspettate Vado giù Mi crafto un secchio Andiamo giù Prendiamo l'acqua E torniamo su subito Perché l'acqua ci serve da matti C'è da matti Però portiamo giù anche questi 17 quali ferro Altro che è un secchiello Allora Ci serve di sicuro una fonte d'acqua Tanto qua una fonte d'acqua Ce l'abbiamo C'è da matti sovraccarica vai no 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 oh così sei meno pericolosa stavo per morirci un'altra volta ancora ma scusate ma io non corro così tanto com'è possibile che non c'ho mai cosciotte mi muovo ok che continuo a muovermi da una parte all'altra e saltare come una lepre però adesso morivo tutti che cristonevano dietro nei commenti ma sei perla in effetti avevate ragione se lo dicevate se morivo si ma non sono morto tanto non sono in una in una hardcore mi era separato per un secondo ho detto diamanti poi ho detto ah no 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 niente soltanto sta roba troppo le allucinazioni di diamanti vengono chiamate ok mancano una due tre quattro cinque sei sette otto otto ho contato male erano tipo nove tanto non ne potevo fare meno di otto no meno di otto si potevo farne più no cioè una in meno oh che genio ho fatto giusto beh sapete che genio ho fatto giusto un calcolo eh e adesso qua davanti a casa nostrina facciamo un bel coso così allora largo uno uno due quattro cinque sei sette e otto così basta un secchio e intanto possiamo già coltivare poi prendete i semi e fate così questo episodio ragazzi finisce qua aspettate voglio raccogliere l'ultimo semi ok fate così esatto e basta e alla prossima ciao ciao